Dio benedica Gela, è uno degli scatti più belli e significativi, era scritto su un lenzuolo bianco mostrato dal portiere Daniele Pandolfo. Sì, perché in effetti l'aiuto deve giungere dall'alto, sulla terra, anzi sul terreno di gioco, ci hanno già pensato loro, i giocatori che indossano una maglia bianca-azzurra. Il Gela ha conquistato la quinta promozione di seguito ed è approdato in Serie D, una cavalcata trionfale, un giusto riconoscimento ad una squadra che ci ha sempre creduto anche in periodi neri. Finalmente Gela e il Gela ritornano nel calcio che conta. Dopo anni di purgatorio, ricordiamo che si è ripartiti dalla terza categoria, il club bianca-azzurro di strada ne ha fatta tantissima ed ieri, poco dopo le 17.45, si è brindato al salto di categoria. Lo striscione dei tifosi era eloquente per questa curva che ci è sempre stata, vinci e continua la scalata. Pubblico ieri delle grandi occasioni al Presti, stadio pieno in ogni ordine di posto, col Cus Palermo non c'è stata storia, 4-0 e promozione in Serie D. Due gol per tempo, al tredicesimo Nassi, al ventisesimo Mincica, poi nella ripresa terzo sigillo di Alma e al trentasesimo altra rete del bomber Nassi. A fine partita è esplosa la gioia e il primo pensiero è stato per Carmelo Tuccio, fratello del Presidente, scomparso prematuramente il mese scorso. La dedica che abbiamo fatto dell'intero campionato a mio fratello Carmelo sia una cosa naturale, è una vittoria della sua serenità, della sua gioia per la vita. Credo che lui ci stia aiutando parecchio da questo punto di vista perché era una persona importante per tutti noi e il Gela Calcio era una delle sue creature e lo sarà per sempre. Il Gela ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore, penso che questa cavalcata l'ha dimostrato facendo un buon calcio, andando a vincere lungo e largo le partite fuori casa che magari se abbiamo avuto qualche difficoltà poi ci siamo ricompattati e sono molto felice, veramente una cosa impressionante. Quale regalo chiederà ora il Presidente Tuzzo? La riconferma? Intanto ci guardiamo questo meritato reposo e poi vediamo. In questo momento non ci penso niente. A lei piacerebbe rimanere sulla panchina del Gela? Penso di sì, è una piazza importante, che sinceramente ti fa provare delle emozioni incredibili, di un'adrenalina importante. Sono molto felice di rimanere qua. L'apoteosi dei tifosi è interessato anche Piazza Umberto I, caroselli di auto, bandiera al vento, il salotto della città si è colorato di bianco e azzurro. Gela riparte dalla Serie D. L'obiettivo è quello di ritornare in Lega Pro. Intanto godiamoci la festa.